Musa, sembri giù di morale. C'è qualcosa che ti preoccupa, forse? Cosa dico sempre io? Se Musa è triste, Riven non può essere molto lontano. Beh, questa volta è diverso. A dire il vero, sto pensando di lasciarlo. Ma voi due sembravate così legati l'anno scorso. Già, l'anno scorso. Ma ora il nulla. Niente per tutto l'anno. Accidenti, Musa. Non credi che dovreste darvi un po' di tempo per riflettere? Assolutamente no, Bloom. Musa sta prendendo la giusta decisione. I ragazzi non valgono niente. Guarda me. Nessun ragazzo, nessun problema. Non so, Aisha. Secondo me la prendi un po' troppo seriamente. Mi sembra che tu sia molto turbata dal fatto del matrimonio combinato. Beh, i miei genitori stanno ancora cercando di convincermi, ma ancora non so. Non puoi farlo, assolutamente no. Ho messo al bando tutti gli uomini. Niente padri, niente fidanzati, niente ragazze di nessun tipo. Aisha, mi sembra un po' eccessivo. Magari dovremmo chiedere ad un ragazzo che cosa pensa in proposito. Approfittiamone, visto che ne abbiamo uno proprio qui. Hoops, him.